Giulio! Con i dici siamo fortissimi, visto? Bravo, bravo. Adesso andiamo con Giuseppe. Giuseppe, sulla colana c'è Giulio. Basta il no. C'è Giulio sulla colana. Lui, è lui. Chi è, Ercole? Chi ho? Ah, è Svarsenegger. Scusate. Vieni qua. Giuseppe, hai ne vede quello che devi fare? A tempo di musica, alle posse. Pronto? Tre, due, da dove vieni? Roma. Aspetta, ancora no. Tre, due. Dopo, dopo. Tre, due, uno, vai. Aspetta, aspetta, ci sei? E' uno spostamento d'aria. E' uno spostamento d'aria. Ehi. 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 Glute. E' uno spostamento d'aria. Quattro cipite. Cinque cipite. Giuseppe! Ehi. Ehi. Fisico. Ma adesso, Giuseppe, devi recuperare anche la prima prova. Adesso, tu giustamente è riappantaggiato. Ma adesso devi fare la prova di portamento. Esatto. Praticamente, tu parti da qua. Devi stilare. Finale già l'ensemble. Però là, credo, dovrebbe essere una cosa del tipo... Posa. Torni indietro, un'altra posa. Vieni qui, posa finale. Esatto. Quindi, devi recuperare la prova di prima. Quindi, maestro, tu ci sei. Ma qual è tu moglie? Come ti chiami? Sonia. Gioia? Sonia. Sonia. Tre, due, uno, uscita. Vai. Vai, 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 vai. Posa. Torni indietro. La posa da modello, da modello. Yes. La posa al cento. Così. No, no, così. E bravo Giuseppe. Adesso tutti in riga di nuovo. Tutti in riga, tutti in riga. Perché ci sarà qualche eliminato. A che ora finisce? Quando ne rimane uno solo. Perché se io non mi elimino mai nessuno, è così. Eh, sì. Vai, vai, riga, riga. Più avanti. A voi del zio, attento. Maestro, metti la musica del suo stappunto. E il chiamesso, piano piano, è a passo passo, perché ti chiamerò, voi alzerite le mani e la gente farà l'applauso. Quindi, signore e signori. Tu vuoi essere andato? E' andato. Oh, ma da quale di lasciarlo da solo mentre fa ste figure di niente? Dai, forza. E cominciamo come prima. 3, 2, 1, Andrea. Applauso! E' andato. 3, 2, 1, Daniele. Alexander. Salvo. Giulio! Ma non hai vinto. Non hai rinanziale. Non hai vinto. Giulio! 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 L'hai detto? Ah, Giulio, mi sono nudo. Giuseppe! E allora mi trovo costretto a fare la prima eliminazione. Mi dispiace caro Giuseppe. No, che salvo. Mi dispiace caro Giulio, ma per te la gara continua. Salvo. Per te la gara continua. Continua! Daniele, per te la gara continua. Continua, dove hai? Alexander, anche per te continua. Andrea, mi dispiace, ma per te la gara finisce qui! Allora, è l'ultima possibilità. La prossima gara. Pronti? Perché adesso arriva il momento. E' la gara quella con più eliminazioni di turno, perché ne verranno eliminati ben 3. la gara di... Pallo! Ah, eh già, eh già. E questa è bella, eh. Venite qua, tornate qua. E frattempo è stata sbarrita una bevanda fresca. Se la trovate portata, me la grazie. Allora, che succede adesso? Partirà una canzone, sempre una alla volta. Partirà questa canzone per più o meno 10-15 secondi. Sarà una canzone genere pop. Poi verrà cambiata questa canzone e diventerà una salsa. Quindi poi salsa. Poi verrà ricambiata in un ballo sexy, diciamo così. Ballo sexy. E quindi voi dovrete variare questi tre generi. E chi parlerà meglio, chi interpreterà meglio, riceverà un applauso migliore, sicuramente. Quindi vado a chiamare subito. Vediamo, vediamo, vediamo. Giuseppe. E in base agli applausi si rifà la scala della prova successiva. Vai. Non sei ballato? Come no? Allora, partirà questa canzone. E l'anticipo. È una persona che si è ballata in discoteca un sacco. Anche adesso. Però devi proprio scatenare. Poi parte la salsa, quindi non si dita un po' più latino. Poi sei di Roma, mi hai detto. Come quando è il palacarito. È uguale. Poi, c'hai lavorato. E allora. Va bene, maestro, ce l'hai? Do sta sempre? Ecco. Tre, due, uno, vai! È partito. Vai con le mani a tempo. Vai con le mani a tempo. Tre, due, uno, vai! Grazie E questo è un ballo di... Sì, è l'ultimo, è l'ultimo Devi essere sexy, vai E... Giuseppe! Bravo Giuseppe E andiamo avanti con... Aspetta, chi è che ho eliminato? E' il turno di Daniele Maestro, ci sei? Che inquadratura Credo che stia là Sì, è l'unica col telefono Che questo ragazzo Vai Spero che non è la moglie di qualcun altro Ok, 3, 2, 1, vai Siamo da qua Vamos alla playa A mi le gusta bailare Il rifo della noce Ciao ma Grazie a tutti. 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 Salvo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, pronto Prova, vai Stamino Stamino Salsa 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 Volto Lento Vilo Tira 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 Tiro Oh, facino Cambio E qui devi far da solo però Devi corteggiare il pubblico Vai Fagli emozionali Sì Mostra il pezzo forte Bravo E attenzione E signore e signore Giulio Non hai vinto ancora No Questa è una solo extra Per chi lo vuole fare Per guadagnare punti Alza Chi vuole ballare Tutti insieme questa Vai Tutti insieme Questa è una cosa Vai Poi le mani Poi le mani Poi le mani Vieni qua Vieni qua Scusate che cacchio di pazza hai fatto vanno a rivedere e allora tutti in riga perché adesso vi chiederò sempre il vostro nome di alzare le mani e il pubblico farà un applauso amore del zio attenzione che se ti schiacciano fare una marvellata e allora per voi Giuseppe sulle mani sulle mani Alexander Daniele Salvo Giulio e allora signori mi dispiace ma devo eliminare qualcuno e già e tre e ne rimassero solo due per uno scontro fra titani un tet a tet fate vedere il tet a tet lei asciugamana va io non so guarda venite qua perché adesso maestro abbasso tutto alzami il microfono sì sì alzami il microfono ecco qua allora la prova di adesso sarà una prova ecco qua ecco qua ecco qua